Ben ritrovati. Ci stiamo preparando per la bella stagione. Siamo positivi, guardiamo avanti. Non guardiamo ai colori in cui ci possiamo vestire la prossima settimana, giallo, arancione. No, guardiamo a giugno, luglio, agosto. Che appeal ha la Puglia? Siamo ancora la grande meraviglia come avete sentito prima di me la nostra Alessandra Bucci mentre chiacchierava con l'assessore Brahi? Oppure abbiamo perso dei punti? La pandemia ci ha stremato. La pandemia ci ha stremato. Lo sapete meglio di me, la stiamo vivendo ancora, non è ancora finita. Ma la Puglia è ancora la regina del turismo. Che cosa lo dimostra? Non fosse altro, fate voi, anche voi, lo stesso esercizio che ho fatto io. Qualche amico, ne ho tanti in Italia, già da febbraio mi avevano chiesto di intercedere, di cercare qualcosa perché volevano trascorrere le vacanze in Puglia e io già da febbraio ho risposto a tutti. No, tutto preso, mi dispiace, potete solo venire a casa mia e non tutti naturalmente. Cioè non vi posso ospitare tutti. Perché dico queste cose che non sono assolutamente scientifiche? Perché è veramente così. La Puglia è la meta in questa stagione forse sarà ancora la numero uno per le vacanze, le vacanze di prossimità. Certamente non significa la prossimità che risolviamo i problemi di tutti gli albergatori o i problemi economici di tutti i ristoratori o di quelli che hanno le spiagge eccetera eccetera. Ma ci avviciniamo moltissimo. Soprattutto ci avviciniamo moltissimo dato che la Regione, la Sessione Ebraia ha intenzione di coinvolgere tutti i diretti interessati. Forse appunto avete seguito il telegiornale, sono state già approvate sei delibere, delibere divisione, ecco non delibere per risolvere questo o quel problema, ma divisione di tutto il settore del turismo. Per intenderci dalle discoteche alle sale di ricevimenti per i matrimoni, ai bus turistici, alle guide turistiche, ai piccoli borghi. Cioè tutta la filiera, tutta la grande casa del turismo è stato messo nelle caselle per un progetto unitario. E la prossima settimana tutti i diretti interessati saranno chiamati a discuterne. Ora è probabile che non saranno d'accordo e qualcuno già si è lamentato, tipo appunto gli albergatori che comprendiamo, perché se tutte le case sono prese significa che non tutti gli alberghi sono pieni. Però ci sta, siamo in una grande bolla in cui la pandemia non è ancora conclusa, è molto più semplice avere una casa che non stare in una stanza d'albergo, si capisce. L'unica cosa che deve essere chiara è che chi ha perso l'anno scorso, chi ha perso in questi mesi dovrà essere ristorato. Ma non mi pare che ci siano problemi sull'argomento. L'importante è che appunto andiamo tutti nella stessa direzione e per il turismo la stessa direzione è indispensabile, perché la fabbrica del turismo è la numero uno nella nostra regione. Non possiamo permetterci polemiche o non possiamo permetterci abiure, antipatie, no, non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo rimare tutti nella stessa direzione e possiamo lasciare al comandante Brei il timone della barca, perché sappiamo che l'ex ministro sa guidare bene le barche. Vi ringrazio, ci vediamo lunedì.